Il mondo è rappresentazione. Il mondo che si offre ai nostri occhi, quello che tocchiamo e quello che pensiamo, è rappresentazione. Come dalle Upanishad antiche e da Parmenide in poi ha compreso ogni speculazione penetrante. Su questo si può tagliare corto. Gioco e violenza. Nel nesso che congiunge due rappresentazioni si ravvisano due componenti in contrasto fra loro. Un aspetto di questo legame viene rivelato dalla natura della memoria, poiché nella persistenza di cui essa è testimone, nella conservazione di ciò che era prima, vi è un elemento fatale, ineluttabile. Una consistenza del fondo della vita. Una durezza che prescinde da ogni volontà e si impone al di fuori di ogni principio di individuazione. Insomma, un elemento di costrizione e di violenza. L'altro aspetto è la gratuità, l'arbitrario, il salto qualitativo che rinnova la separazione dell'immediatezza dalla sua prima sedimentazione espressiva e un carattere di imprevedibile lievità e di gioco. Nella fase di riflusso, la natura del vincolo tra le rappresentazioni diventa così una modalità, la quale viene determinata secondo una legge e seguendo la traccia di quella violenza viene assegnata separatamente a una certa relazione rappresentativa con il nome di necessità, oppure, seguendo la traccia di quel luogo, viene assegnata con il nome di caso. Potenza della memoria. La conoscenza è soltanto memoria, mai vera immediatezza. Le sensazioni, addirittura le impressioni sensoriali, e in genere tutto quello che i filosofi hanno chiamato conoscenza immediata, non sono altro che ricordi. Il tessuto intero della coscienza, ossia il conoscere effettivo di un soggetto umano, quello che sentiamo, rappresentiamo, vogliamo, operiamo, la nostra anima o una stella, è una semplice concatenazione di ricordi che si collegano a costituire il mondo della rappresentazione. E' fanciullo allo specchio, dicono i testi orfici, Efesto fece uno specchio per Dioniso, e il Dio, guardandovi dentro e contemplandovi la propria immagine, si gettò a creare la pluralità. Lo specchio non soltanto è un'indicazione della natura illusoria del mondo, ma dalla nascita di questo esclude ogni idea di creazione. di volontà, di azione. Tutto è fermo. La vita è il fondo della vita. Sono un Dio che si guarda allo specchio. Fuori del logos, gioco e violenza, sono inscindibilmente commisti. Ed è proprio il radicale specchio di Dioniso che, riflettendo questo contenuto magmatico, lascia scorgere sulla sua superficie le immagini carificate dell'apparenza, rette dal dominio alternativo tra il necessario e il casuale. Dopo Nietzsche, un cammino a ritroso. L'artista non imita nulla, non crea nulla. ritrova qualcosa nel passato. Noi siamo sazi di questo mondo di forme, di colori, di individui. Ne siamo oppressi, disincantati. L'arte non assomiglia a nulla di questo mondo. L'artista inverte il corso del tempo, scoprendo da quale passato è nato questo presente, suscitando, facendo riemergere quel passato. Ma il tempo invertito, il tempo artistico, non è guidato dalla necessità. È bizzarro, imprevedibile. Quel passato sorge da un altro passato, però senza un nesso di continuità. E la falsa vivezza dell'esistenza abituale, presente, non può essere prodotta dall'artista. È il filo della necessità da lui ripudiato che la produce. Il falso distacco dell'esistenza artistica per contro è un recupero delle rappresentazioni nascenti che agglutinandosi fanno sorgere l'individuo. La vita è nel passato. Sapiente è colui che getta una luce nel buio del passato. Indecifrabile, sfuggente è la natura di ciò che è stato. Se guardiamo il passato, se cerchiamo di recuperarlo, ci sembra l'ora di perdere la vita. se guardiamo la vita, scopriamo il passato. Ciò che è trascorso da un istante o da un millennio è identicamente perduto. Nel grido della felicità, nell'urlo della disperazione, ecco, in quell'attimo che già ha una risonanza, la vita immediata è svanita ormai, dileguata, per sempre. Ma noi ci aggrappiamo a quel passato. Non vogliamo perderlo. Tutta la nostra esistenza cosciente non è che è eco, propagazione di quella vita. Le onde vanno attenuandosi in gridi, in attimi, in struggimenti, ricordi, in fantasie, in pensieri. E nel fluire degradante di quelle ripercussioni, nuovi scuotimenti intervengono, cosicché le increspature si intrecciano e si confondono. Se ci inoltriamo più indietro ancora, per scoprire la vita sorgiva da cui è scatturita l'onda che sempre ci avvolge, non fraghiamo nel buio dell'irrappresentabile. Non ci giova aver abbandonato il sussulto evanescente di ciò che vive ora. Se invece voltiamo le spalle al passato e sezioniamo ciò che ci sta di fronte per cogliere la vita mentre fluisce in noi, allora ogni volto, forma, corposità, colore, figura della vita che ci circonda sembra ovunque scomporsi in frammenti di passato. La concretezza del mondo presente è un'astrazione mascherata, lungamente elaborata prima di noi e da noi. Ogni fremito è una menzogna, ogni immagine un miraggio. il modello dell'integrità. L'uomo moderno è spezzato, frammentario. Ciò che la collettività si attende dall'individuo presuppone in lui è sempre diverso da quello che gli scopre in sé stesso come autentico, sorgivo. E c'è qualcosa di più che una formica che vuol lasciare dietro di sé una traccia durevole tra le apparenze, il suo strascico di cometa o di lumaca viene frantumato dal mondo umano, non dalla sua ostilità, ma semplicemente dalla sua estraneità, dalle sue regole, dai suoi comportamenti, dalle sue consuetudini. Nella collettività l'espressione dell'individuo non rifeggia, non rifulge più, è perduta l'armonia del mondo antico. Negli ultimi due secoli l'apparizione di una grande personalità si accompagna al quadro di un'esistenza tragica quando non intervenga un temperamento accomodante e bile a preservare l'individuo. E la lista sarebbe lunga, Nietzsche è un esempio clamoroso, emblematico di questo destino, poiché in un mondo che è stretto dall'individuo, Nietzsche è stato capace di farci vedere l'individuo non piegato dal mondo. Questo risultato lo raggiunse in un'epoca che si è compiaciuta e il compiacimento oggi è anche più forte di mostrare la vita spezzata, l'individuo fallito. Se la persona di Nietzsche è stata infranta, ciò non dimostra nulla contro di lui. In cambio egli ci ha lasciato un'immagine diversa dell'uomo ed è con questa che dobbiamo misurarci noi.